Grazie a Davis. Dopo quella vittoria che ho visto, Nenad, sul Livorno, veramente molto buona quella partita, comunque i risultati hanno detto che nelle ultime quattro lo Spezia non ha più vinto. È vero, hai ricordato i dati relativi al possesso palla alle occasioni, ma qualcosa si è inceppato. Hai avuto l'impressione che i tuoi ragazzi, toccata la cima dopo quella partita, abbiano un po' mollato a livello di concentrazione, di voglia? No, penso che abbiamo vinto, penso che dopo Livorno abbiamo giocato contro Latina e abbiamo vinto fuori da casa, però perché non analizzate come abbiamo perso? Solamente vi chiedo questo, perché ho visto i vostri highlights della partita contro Cotone, mi sembrava un'altra partita. Voi avete visto una partita, noi abbiamo visto un'altra partita, per quello non mostrate sempre come si è visto nel campo. E per quello non posso stare arrabbiato con mia squadra perché non ha vinto tre partita. Ha dimostrato sempre buon atteggiamento e è lo che conta. Nel senso che secondo lei abbiamo messo, adesso non mi ricordo, l'highlight. Non avete messo niente di Spezia, non avete messo niente, però nulla, nessuna situazione polemica, nessuna occasione di Spezia. Sembrava che solamente giocava a Cotone, ma per me era un poco vergognoso. Però buono, tutti sbagliati. Sì, certo, ci spiace, se è data veramente così, ci spiace. Comunque non è stato fatto in malafede, questo glielo posso assicurare. Grazie di Elisa!